Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui vi voglio mostrare come poter completare il trionfo potenziamento eternità che molto semplicemente seguirà tutte le orme di quelli già visti in precedenza, quindi breve ripassino, andate da Variks, comprate il Trasponder Bray al costo di 50 qui per sempre e successivamente recatevi presso il promontorio di Cadmo, questo soltanto quando quella macroarea sarà designata come zona eclissata, qui dovrete cercare un caduto invisibile con il bonus scanner e lo riconoscerete per via dell'icona gialla sopra la sua testa, quindi uccidetelo, raccogliete il bonus e dirigetevi verso l'area eternità, qui dovrete trovare i tre gruppi di droni, distruggerli nell'ordine in cui verranno indicati sempre prima quello giallo e accedere i tre archivi CPF necessari al completamento del trionfo, nel dubbio comunque seguite semplicemente le istruzioni a video, io non vi rubo altro tempo, vi lascio alle clip, vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi! ciao a tutti! Grazie. 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 Grazie.